Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Gary Kasparov è un giocatore leggendario. Ancora oggi mantiene il record di più giovane campione del mondo della storia degli scacchi. Lo è diventato all'età di 22 anni e quasi tutti i migliori giocatori di oggi concordano sul fatto che Kasparov sia il giocatore migliore di tutti i tempi. Carson stesso lo ha affermato. Ora andrò a mostrarvi una partita veramente geniale dove Kasparov esprime tutto il suo talento. Una partita bellissima piena di combinazioni assurde. Prima di iniziare ricordo a tutti di iscriversi al canale, di mettere mi piace a questo video. Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo, veramente tante grazie. Stiamo andando benissimo e iniziamo. Ok, eccoci qui. La partita risale al 1999. Kasparov era il numero 1 al mondo. Sfida il numero 10, Veselin Topalov. Questa partita passerà alla storia come l'immortale di Kasparov. Una partita veramente pazzesca. Kasparov gioca con i pezzi bianchi. Inizia con 1 e 4, Topalov gioca d6, la Pirz. Segue pedone d4, Kasparov conquista il centro. Cavallo f6, Topalov sviluppa un pezzo, attacca il pedone in e4. Kasparov gioca cavallo c3, difendendo il pedone in e4. Segue pedone g6 per finacchettare l'alfiere. Assolutamente nella Pirz questa è una manovra tipica. Kasparov gioca alfiere 3. Segue alfiere g7 appunto e Kasparov prosegue con donna d2. Donna d2 è una mossa molto forte. Intende giocare alfiere h6 per togliere l'alfiere campo scuro al nero per indebolire le case scure dato che solitamente quasi sempre il nero arrocca corto. In più donna d2 prepara la mossa arrocco lungo. Qui Topalov continua con c6. Anche questa è una mossa molto interessante perché l'idea è quella di giocare b5 per iniziare ad attaccare un eventuale arrocco lungo da parte del bianco. Quindi Kasparov continua con f3. Guardate come si stanno studiando. Anche f3 è una mossa che prepara un attacco. Ad esempio g4 h4. Topalov non perde tempo, gioca b5. Segue cavallo e2 da parte di Kasparov. Anche questa è una mossa molto forte. L'idea è quella di giocare pedone g4 per poi giocare cavallo g3 e h4. Quindi far partecipare il cavallo all'attacco. Chiaramente qui Kasparov lascia intendere che in questa posizione non vuole più arroccare corto perché come vedete l'alfiere è in f1 ma vuole giocare arrocco lungo. O comunque rimanere con il rail centro. Vediamo cosa succede. Topalov risponde con cavallo d7. Segue alfiere h6 da parte di Kasparov. Come vedete dopo sole 8 mosse la posizione è già molto sbilanciata. Entrambi devono ancora arroccare. Kasparov cerca di sfianchettare l'alfiere prima che Topalov arrocchi. Qui Topalov gioca alfiere per h6. Segue donna per h6. Ora Topalov come vedete non può più arroccare perché c'è la donna che controlla questa diagonale. Quindi gioca alfiere b7 e Kasparov gioca pedone a3. Attende ancora non arrocca. Pedone a3 serve a impedire momentaneamente la spinta in b4 da parte del nero. Qui Topalov gioca pedone a5. Decide di giocare al centro. Kasparov finalmente prende la decisione di arroccare. Ora qui la posizione è completamente pari. Però il nero deve stare attento perché ha il rail centro. Quindi deve anche lui arroccare lungo. Vediamo cosa succede. Donna e7 da parte di Topalov appunto preparando arrocco lungo. Kasparov gioca a re b1. Pedone a6. Cavallo c1. Qui Kasparov dà spazio all'alfiere. Cerca di trasportare questo cavallo sul lato di donna. E Topalov decide di mettere il rail sicuro con arrocco. Ora fino a qui tutto sommato stanno entrambi giocando bene. Kasparov continua appunto con cavallo b3. Segue pedone per d4. Torre per d4. E Topalov gioca a pedone c5. Sembrerebbe quasi che il nero stia per effettuare un attacco. Poiché ha i pedoni molto più avanzati rispetto al bianco. Però vediamo appunto cosa succede. Kasparov torna indietro con torre d1. E segue cavallo b6 da parte di Topalov. Un'altra mossa molto buona. Kasparov gioca pedone g3. Questa con l'idea di fianchettare l'alfiere. Oppure di giocare direttamente alfiere h3. Per controllare questa lunga diagonale dando scacco. Re b8 da parte di Topalov. Cavallo a5. Kasparov attacca l'alfiere campo chiaro. Questo alfiere deve essere mantenuto. Quindi Topalov decide di giocare alfiere a8. E Kasparov gioca appunto alfiere h3. Sviluppa anche il suo ultimo pezzo. Controlla questa lunga diagonale. Collega le torri. Qui la partita si fa molto interessante. Il nero ha comunque una buona posizione. Se riesce a giocare bene. Però come vedete la posizione è estremamente complicata. Qui Topalov decide di giocare d5. Cercando di aprire il gioco. Però in questo modo effettivamente rende il re vulnerabile. Kasparov ne approfitta subito. Giocando donna f4 scacco. Segue re a7. E Kasparov gioca torre e 1. Ora la sua idea è quella di aprire le colonne. Per attivare ulteriormente le torri. Quindi vuole giocare pedone per d5. Qui Topalov non può aprire le colonne. Quindi decide di giocare pedone d4. Attaccando il cavallo. Ma Kasparov non si tira indietro. E gioca cavallo d5. Quindi come vedete ha impostato un gioco molto aggressivo. Qui di fatto sta anche sacrificando un pedone. Perché su cavallo per pedone per. Questo pedone poi non lo salvi più. Ma tutto ciò per mettere le torri in gioco. Qui Topalov decide di catturare. Segue pedone per. Ora il nero ha sotto la donna. Quindi Topalov deve spostare la donna. Gioca donna d6 offrendo il cambio. Kasparov non può accettare il cambio. E gioca torre per d4. Una mossa veramente assurda. Ok. Qui ha inizio un attacco violentissimo da parte di Kasparov. Questo attacco farà passare questa partita alla storia. Una partita veramente micidiale. Kasparov sacrifica una torre netta. Topalov deve accettare. Segue torre e 7. Un'altra mossa veramente incredibile. Una mossa veramente assurda. Regala la seconda torre. Io avrei voluto tanto vedere la faccia di Topalov in questa posizione. Kasparov ha appena sacrificato una torre. Poi gioca torre e 7. Però questa volta Topalov ci pensa bene. E non cattura la torre. Giocando re b6. Perché? Perché capisce che Kasparov aveva impostato una combinazione veramente micidiale. Ovvero su donna per torre sarebbe seguita questa variante. Donna per d4 scacco. Re b8. Donna b6 scacco. Qui c'è matto forzato praticamente. Alfiere b7. Cavallo c6 scacco. Re in a8. Perché non può venire in c8. Altrimenti qui c'è l'alfiere. Quindi re a8. Donna a7. Scacco matto. Una mossa veramente fantastica. Torre e 7. Ecco quindi che su torre e 7. Topalov decide di giocare re b6. Kasparov a questo punto cattura in d4. Questo re non può tornare indietro perché la torre controlla tutta la traversa. Quindi deve catturare in a5 oppure può giocare donna c5. Una delle due. In partita Topalov decide di catturare il cavallo. Non gioca donna c5. Qui sarebbe seguita una variante veramente assurda. Se Kasparov l'aveva calcolata complimenti a lui. Davvero genio. Cioè una partita veramente incredibile ragazzi. Qui sarebbe seguita donna per cavallo. Donna d6. E qui una mossa veramente veramente controintuitiva. Veramente fantastica. Alfiere e 6. Se fossero rientrati in questa variante. Se Kasparov avesse trovato questa mossa. Questa mossa sarebbe stata la mossa migliore di tutti i tempi praticamente. Pur di non cambiare le donne. Alfiere e 6. Questo alfiere non può essere catturato. Altrimenti crolla tutta la posizione del nero. Quindi il nero perde la donna. E Kasparov qui a partita completamente vinta. Ecco quindi che Topalov in questa posizione decide di catturare il cavallo. Kasparov gioca pedone b4. Segue re a3 forzata. Donna c3. Kasparov minaccia scacco matto in 1. In b3 con donna b3. Quindi Topalov deve impedirlo. Gioca donna per d5 controllando la casa b3. Segue torre a7. Cercando di catturare il pedone e dare scacco matto. Topalov difende con alfiere b7. Ma Kasparov dice ok. Sacrifico anche la torre. E lo può fare benissimo. Perché Topalov non può catturare. Altrimenti segue scacco matto in b3. Quindi segue donna c4 da parte del nero. E Kasparov qui non può cambiare le donne. Perché ha una torre netta in meno. Quindi andrebbe a favorire il nero. Quindi decide di catturare il cavallo in f6. E segue re per a3. Perché Kasparov comunque stava minacciando scacco matto con donna per a6. Raggiungiamo questa posizione. È abbastanza insolita. Abbastanza incredibile come posizione. I due re si trovano molto vicini. Kasparov deve stare attentissimo a ciò che gioca. Perché qui sta rischiando comunque di prendere scacco matto con torre d1. Quindi deve trovare delle mosse uniche. Gioca donna per a6 scacco. Il re si sposta catturando il pedone in b4. Kasparov gioca pedone c3. Questa era l'unica mossa vincente nella posizione. Guardate che mossa. Pedone c3. Mossa veramente incredibile. Da campione. Pedone c3. Cosa succede qui? Che Topalov decide di catturare di re. Non può catturare di donna. Altrimenti segue scacco matto. Dopo ad esempio donna per b5 scacco, re a3, torre in a7 scacco e dopo donna qui torre per scacco matto. Ecco quindi che qui in questa posizione Topalov decide di catturare di re. Kasparov gioca donna a1 scacco. Segue re d2. E qui Kasparov dà ancora scacco giocando donna b2, re d1. Arriviamo in questa posizione. Kasparov ha già trovato delle mosse incredibili. Qui ne gioca un'altra veramente, veramente, veramente assurda. Ovvero alfiere f1. Mette l'alfiere in presa. Attacca la donna. La donna non può catturare perché se la donna cattura l'alfiere segue donna c2 scacco, re 1, torre a7 scacco, donna a2 forzata, donna per e2 scacco matto. Queste sono combinazioni micidiali. Mamma mia, mamma mia. Partita veramente allucinante questa. Quindi in questa posizione Topalov non può catturare l'alfiere e gioca torre d2. Con torre d2 attacca la donna. Kasparov se ne esce con una mossa geniale. Non so se voi riuscite a trovarla la mossa qui. Non cattura la donna, ovviamente, non cattura la donna, ma gioca torre d7. Wow. Torre d7. Inchioda la torre in d2. Intende giocare torre per d2 scacco matto. La donna del nero rimane in presa. Veramente, combinazioni incredibili. Combinazioni aliene da parte di Kasparov qui, in questa partita. Qui segue torre per d7. Ora Kasparov cattura in c4. Segue pedone per c4. La posizione si semplifica perché Kasparov ottiene anche la torre. Qui capisce che ormai non c'è niente da fare. Questa partita è da abbandono. Topalov prova a giocare ancora. Ha qualche minima possibilità, probabilmente. Gioca torre d3 per poi cercare di spingere il pedone. Ma Kasparov ovviamente non glielo permette. Gioca donna a8. Segue pedone c3. Donna a4 scacco. Il nero non può spingere, altrimenti perde il pedone. Quindi gioca re e1. Segue pedone f4. La mossa tranquilla. Tanto qui Kasparov non sta più rischiando niente. Pedone f5. Re c1 per impedire torre d1. Altrimenti segue donna per d1. Quindi torre d2 da parte di Topalov. Donna a7. Kasparov attacca il pedone in h7. Minaccia di entrare giocando donna g1. E qui a questo punto Topalov decide che può bastare così e abbandona. Mamma mia che partita. Kasparov ha dovuto trovare almeno 4 o 5 mosse. Veramente incredibili in una sola partita. Pazzesco. Pazzesco. Questa è sicuramente una delle sue migliori partite. Se non la migliore. Grande campione. Un giocatore leggendario. È riuscito a trovare tutti i tatticismi di base. Ragazzi. Tatticismi di base. Kasparov qui ci insegna tantissimo. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di lasciare mi piace. Iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.